Pochi ci avrebbero creduto, ovvero che un arbitro sarebbe alla fine passato alle vie di fatto nei confronti di un giocatore. E invece è accaduto, caso più unico che è raro sul litorale Ibleo, precisamente sulla spiaggia di Cavadaliga, dove il direttore di Ghiardi, un torneo amatoriale, evidentemente esasperato per averne sentita di tutti i colori, anziché ammonire o espellere il suo vivace interlocutore, lo ha colpito con un pugno causandogli la rottura del setto nasale. L'episodio che ha fatto scattare la spropositata reazione dell'arbitro era stata la concessione di un calcio di rigore, solite scene strazianti di chi l'ha subito, anime accesi, contestazioni vivace e qualche parola di grosso, alla fine violenta reazione dell'arbitro col giocatore a terra sanguinante e l'arrivo dell'ambulanza che lo porta a pronto soccorso per le cure del caso, ovviamente la partita è stata sospesa, il nostro territorio era una perla che ci mancava.